E' stato aggredito in strada da un uomo che lo ha derubato di soldi e cellulare, vittima della rapina, un giovanissimo, un ragazzo di appena 17 anni, originario del Bangladesh. E' successo ad Arezzo, in Viale Cittadini, ci troviamo a pochi passi dal parco del Colle del Pionta. Il giovane è stato avvicinato dal rapinatore che, dopo averlo aggredito, gli ha strappato dai pantaloni il cellulare e si è fatto consegnare anche il denaro all'interno del portafoghi. Quando il ragazzo ha provato a reagire, l'aggressore lo ha anche minacciato con un bastone. La vittima ha chiamato immediatamente i carabinieri che, intervenuti tempestivamente, hanno iniziato le ricerche in zona e sono riuscite ad individuare ed arrestare l'aggressore, un 22enne del Gambia, all'interno del vicino parco del Pionta. L'area verde lo scorso maggio era stata al centro della maxi retata della Polizia di Stato, oltre 40 gli spacciatori che erano stati arrestati. E' cambiato dall'anno scorso, dopo il blitz? Abbastanza, sì. È più sicuro. Io comunque vedo anche i miei compagni dell'università, anche ragazzi, potrebbe essere un problema per loro, però comunque il complesso è sicuro. Oggi indubbiamente molto è cambiato, ma purtroppo il consumo di droga ad ogni ora del giorno in questo parco resta evidente. Numerose, infatti, le siringhe usate ed abbandonate e ben visibili a tutti, anche nell'area del campus universitario. Pochi giorni fa una ragazza ha trovato delle siringhe all'interno del campus, quindi potrebbe essere anche un po' più controllato. E la cosa non rende tanto sicuro, anche perché pensiamo a una matricola che appena arriva qui vede queste cose. Cioè, già noi siamo del terzo anno, quindi siamo tra virgolette abituati, anche se è strano abituarsi a questa cosa, perché uno non si dovrebbe abituare.